Amici di Vini e Vino, ciao! Siamo qui con l'amico Filippo. Ciao Cristian! Pronti per degustare questa bolla che vi sta versando. E che bolla, guarda! E che bolla! Allora direi che questo è un Marchese di Frescobaldi, un trento d'occhio, un brutto di 12,5 gradi come vitigno, un Pinot Nero e Chardonnay. Andiamo a guardare, andiamolo a degustare, un giallo bello dorato, pulitissimo, cristallino, delle belle bollicine, hai visto anche la spuma che ha fatto, c'è una bella pressione, sentiamo il profumo. Direi che crosta di pane, frutta gialla matura, abicocca, ananas, banana, bello frutto maturo. Fa 24 mesi sugli egiti e quindi è per quello che la crosta di pane si avverte, la si avverte così. Ricorda un po' quei vini nobili. Esatto. Sentiamo come è in bocca, dai. Mi viene da dire il classico trento d'occhio, quindi bello secco, subito molto equilibrato, ha tante bolle, sentite in bocca, quelle che vediamo nel bicchiere ce le ritroviamo anche durante la degustazione. Molto bello. Pulisce, pulisce molto bene, lo serviamo molto fresco. Direi che sì, a 6-8 gradi, quindi bello, fresco, direi anche che questo è veramente uno dei segni che evidenzia l'Italia nel mondo. Uno di piacere di produzione propria. Mi viene voglia di pesce. Ah sì. Qualche crostaceo, qualche frutto di mare, una bella crudità di salmone e via. Ok, benissimo. Ci rimedi in vino. Grazie. Ciao.